Grazie Presidente, io sull'ordine dei lavori perché questa mattina ho assistito a una situazione che mi ha preoccupato tantissimo, mi ha allarmato. Il Presidente D'Alfonso ricorderà alle 9.25 di questa mattina e la sua macchina che ha bussi all'altezza di uno svingolo in doppia, con striscia, doppia striscia con lambeggiande, superava in curva mettendo a serio rischio l'incolumità degli utenti della strada. Immaginiamo se stava passando una madre con due bambini all'interno di quella strada. Presidente, le regole vanno rispettate. Presidente, la sua macchina, doppia striscia continua, in curva, cosa fa fare al suo autista? No, noi siamo preoccupati, Presidente, non possono succedere queste cose. Grazie. Iniziamo allora con l'interrogazione. Grazie, consigliere. Grazie, consigliere, grazie. Consigliere, grazie. No, perché è sull'ordine dei lavori, consigliere. Consigliere, sì, e l'ha evidenziato. L'ha evidenziato, sì, poi lo riprenderemo. Sì, poi lo riprenderemo. Dunque, consigliere, consigliere. Consigliere, consigliere Pettinari, la richiamo a non offendere consiglieri, presidenti e assessori. Quando mi chiedete la parola sull'ordine della... Quando mi chiedete... Da Alessandro.